Oltre a uno sculto in più c'è anche una truffa all'Inps? Sì, c'è stata anche una serie di truffe all'Inps, una consumata e altra tentata che è stata bloccata soltanto perché i carabinieri hanno posto fine alla complessiva attività criminale. Era attività truffaldina parallela rispetto a quella di caporalato che era posto in estere dalle stesse persone. Questa volta tra gli indagati c'è anche il titolare dell'azienda? Sì, c'è anche il titolare dell'azienda, in particolare proprio per l'attività truffaldina perché partecipava a quella attività in particolare. Due meriti all'informazione che forse ha dato una spinta anche alle denunce e anche alla nuova legge? Sì, io devo pubblicamente ringraziare proprio la stampa perché se ci sono state denunce in questo caso che hanno avviato le investigazioni sostanzialmente è stato perché c'è una maggiore sensibilità proprio della carta stampata che direi ormai quasi quotidianamente ricorda che la legge è cambiata. Non abbiamo più una contravvenzione che sanzionava la medesima attività di oggi ma con pene che non consentivano le indagini tecniche in particolare che possiamo compiere adesso e il fatto di avere la possibilità di uno sviluppo concreto delle indagini di immediato evidentemente apre gli occhi alle persone che sono sfruttate. Il coraggio delle lavoratrici perché questo significa comunque perdere il posto di lavoro? Nel caso in questione lo avevano già perso perché si erano ribellate allo sfruttamento c'è da tenere presente che qua si tratta di lavoratori e lavoratrici che alle 3 di mattina erano prelevati a San Vito dei Normani ed erano trasportate a Polignano a Mare per una paga che al netto era di 40 euro al giorno per minimo 10 ore di lavoro ma siamo arrivati a contabilizzare anche 15 ore di lavoro. Colpisce anche il fatto, insomma, la caratteristica delle donne nell'organizzazione? Sì, perché da un lato ci sono donne sfruttate e dall'altro ci sono donne che sfruttano la principale delle indagate in carcere nella casa circondareale di Lecce proprio perché a lei era dovuta la gran parte dell'organizzazione di questa attività illecita.